Ciao ciao, do un altro angolino della mia casa, qui dove ho dei ricordi di famiglia. Questo è il mio suocero che si è fatto sette anni di guerra, poverino, e si è meritato la croce al merito. E questi qua sopra sono i miei suoceri. Eccoli lì, tutti e due. Dunque, allora, non potevo lasciare passare un giorno senza avervi salutato, quindi proprio un brevissimo saluto. E sono stata tutta settimana con i capelli legati con la coda per via della montagna. E adesso così, boh, non mi ci vedo più, che dite ora di tagliarli? O domani vi dico perché questo dito è così, perché sono una distratta, una sbadata, come sempre. E sono una distratta, sbadata, mangiata dalle zanzare, che non se ne vogliono andare. Un abbraccio, un sorriso, buona serata, buona domenica e a domani. Ciao ciao. Ciao.